Ciao sono Alberto e questo è Jekyll. Oggi vi parliamo di DJI Ronin S più Focus Motor. Quando abbiamo fatto il primo video del Ronin S abbiamo parlato di nuovi accessori che sarebbero stati utilizzati assieme per poter offrire nuovi campi creativi. Oggi appunto parliamo di questo motore per il Focus che comprende nella scatola ad un prezzo di 169 euro due aste per la slitta che andrà collegata alla nostra piccola piastra già fornita con il Ronin S, due ghiere di gomma che possono essere applicate al nostro obiettivo in caso non presenti, una ghiera da 8 quindi non sia un obiettivo cinema sostanzialmente e il motore ci permette di utilizzare il Focus Motor senza avere particolari problemi di gioco infatti la costruzione è molto salda e non slitta nel momento in cui andiamo a muovere il fuoco il che è un vantaggio perché molte slitte di questo tipo hanno problemi spesso. Nel caso stessimo usando lenti cine il nostro follow focus si collega semplicemente in maniera efficace e permette un movimento fluido senza alcun intoppo. Ovviamente è preferibile rispetto a un tipo di lente standard dove è necessario utilizzare la gomma ma in ogni caso può essere semplicemente adattata e tagliata nel momento di necessità. Abbiamo inoltre la possibilità di fissare l'aste quindi il motore sia a destra che a sinistra a seconda dell'utilizzo e le necessità della nostra camera. Inoltre la possibilità di collegarlo anche a slitte esterne. Una particolarità della calibrazione del nostro motore risiede nel tipo di lente però. Nel caso di prima dove abbiamo imparato i due tocchi per attivare la calibrazione che andrà in automatico si parla di messe a fuoco con innesti duri di conseguenza quando l'innesto della messa a fuoco, la ghiera, gira e ha uno stop. Nel caso di una messa a fuoco e la calibrazione quindi su un obiettivo fotografico possiamo dire dovrà essere in un certo senso ingannato quindi nel momento in cui si avvia la calibrazione automatica andiamo a arrivati a fine corsa stoppare il motore che sta girando per trovare il punto finale e quindi dargli un falso sostanzialmente quindi impostare noi manualmente in quel punto lì la fine della nostra ghiera della messa a fuoco. Come dicevo il motore fa un certo rumore di conseguenza in circostanza in cui sia necessario utilizzare un microfono direttamente sulla camera bisogna valutare l'utilizzo comunque su camere come per esempio le mirrorless in cui l'autofocus ha fatto grandi passi avanti e a altissimi livelli di conseguenza è quasi inutile utilizzare un motore per il follow focus esterno da utilizzare sulla camera in quanto possiamo risolvere tranquillamente con il nostro focus automatico. Come dicevo il nostro motore per il focus è un elemento molto funzionale in diverse situazioni e si presta a tantissime combinazioni differenti per rendere più creativo il nostro utilizzo del mezzo. Tuttavia l'utilizzo su obiettivi fotografici come dicevo o comunque con un focus che non ha una fine corsa quindi un focus infinito su quel punto di vista lì non è molto affidabile in quanto bisogna operare manualmente per il settaggio e quindi ci sono delle fluttuazioni poi da utilizzo a utilizzo sulla messa a fuoco. Per quanto riguarda invece l'utilizzo su lenti cine è ideale soprattutto su lenti che si prestano molto bene e sono leggere come per esempio delle lenti samyang che sono molto leggere possono essere applicate e compensano il peso di questo motore sul Ronin. Tirando un po' le somme di questo piccolo accessorio per il Ronin S possiamo dire che è uno strumento che ci permette di ampliare i nostri orizzonti a livello creativo e di utilizzo del nostro mezzo. Tutti i prodotti che vedete in questo video sono offerti ai nostri sponsor RCE. Potete ovviamente noleggiarli o acquistarli nel negozio fisico o online. Detto questo alla prossima con nuove interviste, nuove recensioni, nuovi video. Ciao da Alberto. Grazie a tutti.